un cordiale saluto a tutti benvenuti a questo appuntamento la rassegna stampa oggi è lunedì 11 maggio 2015 ben ritrovati allora cominciamo subito dal santo del giorno oggi la chiesa ricorda san fabio e compagni il sole sorto le 5 e 48 tramonterà le 20 e 21 le immagini l'immagine la fotografia scattata dalla webcam del nostro osservatorio meteorologico che è raggiungibile attraverso il nostro sito internet occhialanotizia.it indica un cielo sereno con soltanto qualche velatura 13 14 gradi possiamo dire 14 gradi la temperatura questa mattina alle 7 e 30 allora andiamo subito a vedere le previsioni della protezione civile per oggi lunedì 11 maggio previsto cielo sereno poco nuvoloso con temperatura in diminuzione nei valori minimi i venti sono deboli dei quadranti meridionali per domani martedì 12 12 maggio avremo cielo poco nuvoloso per il transito di lievi velature temperature stazionarie o in lieve aumento per quanto riguarda la tendenza dei prossimi giorni per i prossimi giorni avremo almeno fino alla giornata di venerdì tempo stabile su tutta la regione Marche con cielo prevalentemente sereno cominciamo a dare un'occhiata allora i giornali dal messaggero il messaggero apre con la cronaca uno scontro uno scontro avvenuto ieri mattina domenica davanti all'aeroporto di Fano uno scontro con lo scooter grave un ragazzo sono molto gravi le condizioni di un ragazzo rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri mattina a Fano all'altezza dell'aeroporto è successo intorno alle 9 45 all'incrocio tra via Mattei che costeggia l'aeroporto è una strada secondaria che porta in aperta campagna bene un ragazzino purtroppo fanese che nell'urto è stato sbalzato ovviamente sull'asfalto ha riportato una serie di traumi poi un altro incidente invece che è costato la vita ad un pensionato di 72 anni questa volta a Marotta dove Lamberto Finocchi è stato travolto ucciso nel tardo pomeriggio di sabato mentre attraversava la strada lungo la via cesanense nella frazione di Ponterio nel comune di Monteporzio è stato preso in pieno da un'auto condotta da un 22enne albanese i funerali si svolgeranno con ogni probabilità domani martedì pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe a Marotta sotto nella pagina del messaggero biciclettata Pesero Fano prove generale d'estate in tanti hanno partecipato all'iniziativa lungo la pista ciclabile il tratto terminale è stato riaperto per l'occasione dato che sono in corso i lavori per l'illuminazione poi sempre dal messaggero sull'ex AMGA da Pesero la bonifica va attuata al riparo e sotto una cupola il Movimento 5 Stelle è critico i dati ARPAM sono tardivi il cantiere va coperto oppure i lavori vanno sospesi sotto invece con l'arrivo dei primi caldi riparte la campagna contro la Zanzara Tigre l'assessore Pesarese Briglia dice già iniziati gli interventi ma anche i cittadini devono collaborare e poi non so quanti conoscono la storia del generale Chiti questo generale di divisione Granatieri di Sardegna Gianfranco Chiti le cui spoglie sono in una tomba del cimitero centrale di Pesero che a un certo punto decide di entrare in un convento di farsi frate e adesso il tribunale ecclesiastico dovrà esaminare le virtù le grazie ai miracoli del servo di Dio padre Gianfranco Chiti perché insomma in corso è iniziato il percorso che speriamo porti questo francescano agli onori degli altari insomma una bella storia che racconta questa mattina il giornale messaggero poi la politica Boschi spacca veleni sulle elezioni il ministro Boschi dice gli elettori non si lasceranno ingannare da chi cambia idea e pensa di servirsi della comunità ogni riferimento a persone fatti è puramente casuale ovviamente si riferisce a spacca il presidente PD il presidente dice PD sull'orlo di una crisi di nervi ha paura di perdere nessun progetto per le marche ossessionati dal mio terzo mandato anche a P nel mirino dell'esponente del governo elettori ormai stanchi dei piccoli partiti la prima pagina invece del messaggero ovviamente ha in apertura il trionfo della VL che è salva e dunque rimane in serie A ampi servizi all'interno dei quotidiani non solo il messaggero ma anche gli altri allora sul Corriere Adriatico invece la pagina di Pesaro al via l'unione dei quattro comuni pesaresi alle 21 prima convocazione a Fiorenzuola si eleggeranno Pascuzzi presidente e Vicky vice l'integrazione dei vigili urbani e dei vari settori sarà operativa tra un mese ma la mobilità è difficile e questo sarà il futuro c'è poco da fare cioè l'unione dei comuni intanto si comincia con i piccoli poi vedrete che piano piano fra una decina d'anni è probabile che anche le città grandi possano prendere le città limitrofe e diventare un unico comune sarà una cosa non di domani ma di dopo domani la sabbia prelevata dal fondo del mare per ricostruire le spiagge l'intervento previsto lungo tutto il litorale con particolare attenzione agli stabilimenti più colpiti dal maltempo finanziato e provato da tutte le autorità il progetto per rimediare i danni dell'ultima devastante mareggiata ci sono lavori in corso festa a Fossombrone della polizia penitenziaria il carcere è anche luogo di formazione a Fossombrone ricordate l'evoluzione e la qualità del servizio poi la cronaca il pilota dell'ultraleggero siamo a Monte Calvo il pilota dell'ultraleggero operato alla caviglia Torrette e non è in pericolo di vita Domenico Sarti 59 anni è stato sottoposto a intervento chirurgico per una frattura scomposta la caviglia ora si trova nel reparto di ortopedia andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico dopo l'incidente mortale che ha registrato una vittima Lamberto Fenocchi lo vedete qui è Fenocchi di là comunque questa è la storica fotografia di quando vestiva la maglia della Pergolese nei primi anni 70 a sinistra invece il luogo il tratto della provinciale dove è avvenuto l'incidente e sotto la Ford Focus che ha investito appunto questo ex calciatore molto tra l'altro stimato, amato a Monteporzo un pezzo di storia di Marotta che dunque con la morte di questo 79enne lascia un pezzo di storia che ci ha lasciati così scrive Spadola sul Corriere Adriatico di questa mattina amato ex calciatore infatti anche qui lo ricorda in questo articoletto di Spalla appunto il giornale poi a Fermignano cemento sima per l'area verde e poi la marcia della Santa della marcia della Santa pellegrinaggio in Umbria siamo sulle pagine siamo sulla pagina di Urbino andiamo su Fano invece a Fano lo stesso schianto un altro incidente quello di cui parlavamo all'inizio della segna stampa dove è coinvolto questo ragazzino di 16 anni nella zona dell'aeroporto si scontra un ciclomotore e una motocicletta un ragazzino è stato soccorso dall'eliambulanza l'incidente nell'incrocio pericoloso tra l'altro per una siepe che limita la vista il solito problema dell'erba che ovviamente va sfalciata ma che non sempre si riesce a tenere ad una certa altezza quindi questi sono poi i risultati cicloturismo dall'Ido al Via un tour di americani la storia che è l'albergo primo bike hotel di Fano ieri ha ospitato la partenza del Giro d'Italia in sei giorni di 20 visitatori arrivati in aereo dagli Stati Uniti per un giorno invece i passeggi sono il cuore della città è una festa riuscita quella organizzata da un gruppo di mamme e si spera nel rilancio di questo parco verde andiamo adesso invece sul resto del Carlino anche qui ovviamente la notizia la notizia dello schianto tramoto grava un 16enne trasportato d'urgenza ad Ancona un minorenne di 16 anni rimasto ferito in maniera molto grave dopo essersi scontrato con una moto i rilievi di legge sono stati affidati agli agenti della polizia stradale poi sotto invece vedete la tragedia di B. Bon questo B. Bon questo Lamberto Finocchi qui torna ad essere Finocchi detto B. Bon una tragedia che ha toccato profondamente tutta la comunità di Marotta e poi invece l'altra notizia che riguarda sempre un'altra morte però stavolta 103 anni nel giorno della grande festa è morta Nanda la supernonna di 103 anni nel giorno del suo compleanno i familiari avevano preparato tutto per l'augurio il suo cuore si è fermato alle 6 del mattino è stata autonoma fino all'ultimo giorno era tutto pronto ieri per la festa dei 103 anni di questa signora si chiamava Armanda Banini detta Nanda classe 1912 residente nella zona di Montegranaro a Pesaro però non ha fatto in tempo a ritrovarsi con la sua famiglia per i festeggiamenti perché si è spenta poche ore prima degli auguri cioè alle 6 di ieri mattina per una insufficienza respiratoria sopra invece una storia sempre raccontata dal resto del Carlino una storia che arriva da Falconara il padrone muore all'improvviso il cane ogni giorno va ad aspettarlo Kira continua ad andare in spiaggia al circolo nautico è un meticcio di 9 anni è stato temporaneamente affidato a Massimo istruttore di Windsor dell'associazione e non è la prima volta che si sentono questo tipo genere di storie insomma quindi questo a sottolineare ancora di più l'affetto l'amore che lega spesso gli amici a quattro zampe con i loro padroni andiamo invece adesso sulla pagina della politica del resto del Carlino perché anche qui si parla della visita del ministro Boschi a Pesaro scuola batti becco tra Boschi e Ceriscioli il candidato PD non convince troppo la riforma meno poteri ai presidi lasciamo la scuola in mano ai sindacati non ci sto ma gli applausi se li prende Ceriscioli soprattutto dalla candidata Franca Foronchi insegnate anche lei intanto il Carlino mostra anche un selfie un autoscatto di ebaci baci renziani tra la Boschi appunto tra la Boschi e e la 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 onorevole vabbè ve lo dirò adesso andiamo sul sulla pagina sportiva invece del resto del Carlino per parlarvi dell'Alma Juventus Fano Alma Juventus Fano che ieri in casa ha pareggiato 2 a 2 contro il Matelica doppio ambro ma l'Alma rimonta i locali in versione sperimentale infilati due volte dall'ex riescono a trovare gol inediti mentre dagli spogliatoi l'allenatore Alessandrini dice sono orgoglioso dei miei ragazzi anche in situazioni difficili la squadra non ha mai mollato fallito per il Fano il record assoluto di punti Matelica non rompe il digiuno di vittorie di vittorie Alessia Morani eccola qua il selfie adesso è venuto in mente grazie per averci seguito buona giornata e ci vediamo domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.